Interpoma 2014, non solo mele, infatti nell'ambito di Fiera Bolzano sono state presentate delle nuove varietà di pera dalla Università di Bologna e infatti incontriamo il professor Stefano Musacchi. Ecco, qual è la storia dietro queste nuove varietà, di che cosa si tratta? Bene, abbiamo colto l'occasione di questa grande manifestazione che si svolge a Bolzano per presentare qualcosa che non è una mela, come diceva lei. Quindi abbiamo presentato tre nuove varietà di pere, che sono frutto di 24 anni di lavoro, perché tanto è il tempo che serve per ottenere una varietà come metodi tradizionali. Sono tre varietà molto interessanti, di cui due precoci, la più precoce di tutte è Erli Giulia, che è un bel frutto, una varietà che è importante perché si colloca in una fascia di raccolta che non ha praticamente rivali, adesso non abbiamo qualcosa che la precede, ma nulla che la segue. E quindi abbiamo un'altra varietà come Lucy Sweet, che è molto dolce ed è molto gradevole come sapore. E una terza varietà, che è Debbie Green, che matura più o meno verso la metà di agosto ed è un gusto molto bilanciato, con un buon rapporto tra zuccheri e acidi nel frutto. Quindi è un frutto che sicuramente può raccogliere il favore di molti consumatori. Ecco, quindi diceva, dei tempi veramente lunghi in effetti per fare questo. Secondo lei quali sono gli areali italiani che potrebbero essere più interessati a queste nuove varietà? Bella domanda, e le spiego perché. Ovviamente la pera qui da noi in Italia si coltiva principalmente in pianura, cioè nella zona dell'Emilia Romagna. Però io recentemente mi sono trasferito negli Stati Uniti, vivo nella zona di Winashi e vi posso garantire che è zona di pere. Cioè è una zona collinare, montana come questa. E quindi perché no anche nel Trentino Alto Adige? Cioè potrebbe essere veramente qualcosa di nuovo, perché la monocultura si va bene, ma sempre fino a un certo punto. La monocultura comporta dei rischi, diciamo così, di commercializzazione del prodotto. Quindi provare anche in areali diversi, dove magari c'è meno umidità, potrebbe essere un ottimo investimento. Ecco, quindi qui a Interpoma 2014 abbiamo avuto l'opportunità di, diciamo anche di offrire delle informazioni a chi coltiva, ecco per differenziare e per ampliare appunto la propria offerta sul mercato. Ringraziamo il professor Musacchi e da Interpoma 2014 Cristiano Spadoni, Agronotizie, è tutto.